Ciao, benvenuto o benvenuta all'interno del mio canale YouTube e all'interno di questo canale troverai tantissimi video inerenti al mondo dell'editoria, in particolare quella indipendente. Troverai delle playlist, la playlist di scrittori vincente riguarda servizi e corsi su come vendere al meglio il proprio libro, la playlist ad esempio di self-publishing vincente riguarda il mio servizio ed esistenza della pubblicazione indipendente, probabilmente il più importante in Italia, numeri e recensioni alla mano e qua trovi delle interviste, dei consigli inerenti proprio al mondo dell'autopubblicazione con il mio servizio self-publishing vincente. E poi troverai una playlist chiamata Bookness, Bookness si rivolge ad autori che sono degli imprenditori o libri professionisti o esercenti che intendono utilizzare e pubblicare un libro o che lo hanno già fatto come micidiale strumento di marketing per la propria attività. Ricapitolando, scrittori vincente, servizi e corsi di marketing per imparare come vendere più copie, self-publishing vincente, informazioni e strategie per pubblicare al meglio il tuo libro col metodo più rapido e remunerativo del mercato editoriale italiano, Bookness per imprenditori che intendono utilizzare un libro come strumento di marketing. Bene, buona visione, per ogni cosa scrivimi sui miei siti scrittori vincente.com, self-publishing vincente.it e bookness.it. All'interno della sezione contatti trovi le informazioni per scrivere ma anche eventualmente per chiamarci telefonicamente. Ti aspetto, buona visione!